Insomma partiamo da un dato, quante famiglie hanno ricevuto questi buoni per i campi estivi? A ieri 1.300, in una offerta complessiva di 2.000 posti circa, sono 57 associazioni accreditate perché hanno presentato un progetto educativo serio che il Comune ha vagliato e quindi il complesso dei posti messi a disposizione sono 2.000. Certo è una misura insufficiente rispetto a un fatto ovvio che è ormai incivile e cioè che le scuole italiane chiudono 3 mesi, quindi se noi consideriamo che abbiamo in quella fascia di età praticamente 9.000 bambini è uno sforzo che è come fermare il vento con le mani. Detto questo la polemica sul click day la trovo legittima ma del tutto infondata. Non abbiamo applicato l'ISE per una ragione molto semplice e politicamente secondo me dirimente e cioè che l'ISE così come è costruito segnala delle gravi povertà alle quali noi rispondiamo con le politiche di coesione sociale, abbiamo in carico 5.000 famiglie quindi il 5% degli aretieni giustamente aiuti dal Governo, dal Comune però c'è una fascia grigia di persone che in base al loro ISE sono considerate benestanti in realtà non lo sono più, sono i piccoli imprenditori, sono le partite IVA sono quelle persone che stanno fuori da un parametro che ormai è vecchio. Allora la risposta va data a tutti e siccome i campi salari sono per i bambini e la povertà educativa non va di pari passo col borsello dei genitori noi abbiamo 2.000 posti e intendiamo dare un contributo a tutti coloro i quali su questi 2.000 possono accedere. Ieri c'è stata una prima tranche, oggi faremo una indagine rispetto a quanti sono quelli che arrivano a 2.000 e avremo la possibilità di coprire però fino all'esaurimento posti. Credo che al di là delle polemiche politiche, poi quelle ognuno fa la propria quindi ho fatto tanto l'opposizione, tanto anche da capire a volte il bisogno di parlare comunque c'è un dato tecnico generale e cioè che non si può stare chiusi tre mesi le scuole e dopo la pandemia avendo misurato il bisogno che le famiglie hanno e i ragazzi ancora di più di stare insieme, un servizio pubblico non serra le porte il 10 di giugno e le riapre il 10 di settembre questa è una roba che non esiste più.